quella medaglia che significato ha avuto nella sua carriera un sogno che si realizza è stata forse la ciliegina sulla torta della mia carriera anche se sto ancora sognando e sto cercando di raggiungere traguardi ancora importanti e vorrei finire la mia carriera in un modo particolare alla partecipazione alla mia sesta olimpiadi a tokyo 2020 prossimo anno e ci sto provando ovviamente molto difficile considerando anche la mia giovane età ma non impossibile per raggiungere a 43 anni non ci sono grandissimi segreti tranne tanta passione tanto amore e la spinta della famiglia e forse il mio segreto più grande ho due bambine di cui una grandicella 14enne e vi posso assicurare che la mia prima tifosa e la mia prima spinta verso questo grande traguardo più bello più bella la medaglia olimpica o il titolo europeo che mi pare tra l'altro sempre nello stesso anno si il titolo europeo stesso anno ma la medaglia olimpica rimane unica rimane il sogno di una vita che si realizza la mia iniziata proprio in una parrocchia nel lontano 84 ecco una bella foto vediamo tra l'altro la foto questa riguarda proprio fabrizio tonato nell'ottantaquattro proprio in quell'occasione in quell'occasione quindi la mia prima olimpia è stata questa nella parrocchia di madonna della neve frosinone della mia città e dove lì nel parco organizzava queste mini olimpiadi e quindi le mie prime medaglie sono state lì hanno iniziato lì ad arrivare con i genitori che sono stati sicuramente artefici di questo è chiaro che dietro c'è stata la mia famiglia che mi ha spinto che mi ha in qualche modo avvicinato a questo fantastico mondo appassionati anche loro sono stati addirittura i giudici di gara quindi pur di starmi vicino si sono inventati anche i giudici di gara più o meno ricordo le stesse emozioni che ho provato a londra e a rio pochi anni fa comunque emozionante comunque divertente il competere l'adrenalina e salire sul podio sono tutti i ricordi che rimangono fissati ma immaginava allora di arrivare a questo poi l'ha presa così come un'esperienza divertente da ragazzo diciamo che a quell'età sei un bambino e il bello dello sport è perché un gioco è bello giocare mia figlia fa sport e mia figlia gioca o più che fare atletica e così deve essere e poi si cresce diventa grandi si capiscono tante cose quel gioco diventa anche un lavoro come nel mio caso grazie alle fiamme gialle visto che rappresentano le fiamme gialle la vita mi ha portato a fare il salto triplo o perlomeno e da bambino avevo delle ottime caratteristiche elastiche esplosive che si affiancavano benissimo agli sport nei salti quindi salto in alto salto in lungo e salto triplo anche qui c'è stata una coincidenza particolare o forse una fortuna della mia vita in un campionato di società giovanile il titolare del salto triplo si infortunò e quindi io come riserva veni chiamato a gareggiare e a coprire la gara e alla mia prima gara di salto triplo ottene il minimo di partecipazione per i campionati nazionali i campionati italiani e da lì è nato questo amore verso il salto triplo io passo più tempo in un impianto sportivo al campo che a casa purtroppo dico a malincuore però capisco pure che questa mia bella favola sta per finire finirà come è giusto che sia e voglio sfruttare ogni minuto ogni secondo di questa bella favola quindi mettere da parte che poi non lo faccio onestamente un pochino il tempo che dedico a casa per stare al campo e per curare il mio lavoro non mi pesa e bellissimo nel mio caso la pedana del salto triplo quindi la pedana e la buca con la sabbia che deve sempre essere perfetta e la fisioterapia perché la prevenzione e le cure sono cammino a pari passo con la prestazione quindi i miei amici colleghi fisioterapisti sono sempre lì disponibili per me è quello luogo caro anche anche quello ho sempre pensato che l'allenatore sia quasi un secondo padre e così lo è stato per me mi ha guidato dal 95 dal 1995 al 2016 fino a quando sono diventato grande ho sempre pensato che il rispetto per l'allenatore e per quella persona per quell'uomo che poi nel tempo è diventato mio fratello mio padre mio amico debba essere assoluto non ho mai cambiato allenatore della mia carriera nella mia vita perché ripeto ho sempre pensato che quell'uomo quella persona a roberto pericoli ha sempre lavorato per me si è messo a disposizione abbiamo vinto abbiamo perso insieme Perciò che lo devi fare